vergogna senza fine nelle scorse ore alberto angela comunicato la morte del padre piero totem della divulgazione della televisione italiana scomparso a 93 anni da tempo lottava con la vecchiaia e la malattia un uomo che ha incarnato eleganza garbo e competenza per decenni è stato in grado di educare e informare milioni di persone proponendo una tv tanto composta quanto preziosa in queste ore gli stanno rendendo omaggio politici di ogni colore colleghi telespettatori conoscenti amici e naturalmente i familiari in tutto ciò purtroppo spicca una nota dolente qualcuno ha ben pensato di insultarlo sostenendo che piero angela sia stato un personaggio corrotto falso e ipocrita l'inviato de le iene gaston zama ha pubblicato un messaggio a dir poco delirante scoperto su telegram all'interno del canale radio greg che conta più di 23 mila persone ed è un sottobosco di complottisti dalle teorie alquanto bizzarre per usare un eufemismo il greg ossia un ex venditore di auto che oggi vive a tenerife si è scagliato contro il di nessun rispetto nemmeno per la morte nessun segno di decenza neppure in un momento così delicato per la famiglia angela solo veleno e strampalate teorie del complotto naturalmente prive di consistenza argomentazioni e prove ci sono quei sabati che iniziano meglio di altri sabati se n'è andato un divulgatore scientifico ma poi soprattutto chi ca o è un divulgatore scientifico ha esordito tale greg tra gli applausi di altri utenti un delirio che è così proseguito 93 anni spesi nella corruzione nella falsità nell'ipocrisia a fare il servo per pochi croccantini 93 anni troppi anni troppi danni ma se ne andà questo sicuramente sarà un sabato migliore aspettiamo gli altri buon weekend ha concluso l'uomo il filmato in cui il greg ha attaccato il defunto piero angela sta facendo il giro del web e sta provocando un moto di indignazione da un lato i complottisti dall'altro migliaia di persone che trovano raggelante quanto esternato e quanto sostenuto per l'uomo Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.